ok buongiorno a tutti siamo la seconda lezione di questo modulo e continueremo oggi cercheremo di finire spero la parte sulle basi di python ok quindi finiremo quelle slide che trovate sul sito del corso quindi di nuovo sarà ancora una lezione un po' introduttiva dove introdurrò tante cose perché dobbiamo metterci un po' al pari con il linguaggio python per poi dalla prossima volta finalmente riuscire a vedere gli argomenti più caratterizzanti di questo corso e dalla prossima volta riuscire riusciremo anche a lavorare di più a fare più esercizi però purtroppo non conoscendo ancora python dobbiamo introdurne le basi ho caricato sul sito del corso le soluzioni del del laboratorio della scorsa volta quindi se andate sul sito del corso potrete controllare anche anche le soluzioni e mi hanno comunicato che sui pc del laboratorio ora installato pi charm che è l'ambiente di sviluppo che vi ho consigliato di utilizzare quindi dopo vedremo insieme di fare una prova di utilizzo di pi charm vi consiglio di provarlo soprattutto per chi sta usando non so se c'è qualcuno ma il proprio laptop adesso o le prossime volte provate a usare il pc del laboratorio perché poi all'esame userete quello e se poi non vi ricordate come si apre pi charm come si usa eccetera eccetera può diventare problematico quindi prima della fine del corso almeno una prova col pc del laboratorio e con pi charm cercate di farla ma poi vedremo un esercizio insieme vi farò vedere bene come come aprirlo su su quei pc lì domande se non ci sono domande direi che possiamo ripartire da dove eravamo arrivati ovvero dalle liste introduciamo le liste che cosa sono le liste beh sono quello che in python è chiamata una sequenza quindi una struttura dati che ci permette di salvare più di un dato alla volta un po' come gli array gli array in c si definiscono con le parentesi quadre vedete qui abbiamo tre esempi di liste diverse possono contenere qualunque cosa qual è la cosa strana che vi salta all'occhio qui in questa slide c'è qualcosa di strano che vi salta all'occhio anche rispetto ai linguaggi si esatto ad esempio nell'ultima nell'ultima lista come dice il vostro compagno fatemi solo controllare di aver fatto partire la registrazione nell'ultima lista abbiamo addirittura una sequenza di valori di tipo diverso abbiamo dei numeri e delle stringhe ok quindi python permette addirittura essendo un linguaggio tipizzato dinamicamente permette anche di avere delle sequenze che contengono valori di tipo diverso cosa assolutamente impossibile in altri linguaggi di programmazione detto questo nonostante python lo permetta è una pratica che un po' vi sconsiglio perché poi può trarre magari un po' in confusione quindi come politica generale direi che cerchiamo di definire liste che siano coerenti i cui valori siano dello stesso tipo anche se python permette di fare anche l'opposto se lo facciamo bisogna essere ben consapevoli di quello che stiamo facendo come stampiamo una lista vabbè se usiamo una print brutale vedete che python ci stampa tutta la lista compresi le parentesi e gli apici vedremo poi con i cicli che per stampare una lista in modo un po' più formattato possiamo scorrere gli elementi della lista e stamparne uno per uno ma lo vediamo dopo ovviamente come per le stringhe anche per le liste possiamo avere un accesso posizionale quindi ad esempio avendo questa lista cose da comprare di due elementi se cerchiamo di stampare to buy di zero andremo a stampare solo l'elemento a posizione zero della lista che in questo caso è eggs ok? in questo caso stampiamo un singolo valore quindi una stringa e python lo capisce e non ci stampa gli apici una lista come abbiamo introdotto forse la scorsa volta è una struttura dati che è mutabile abbiamo iniziato a vedere il concetto di mutabilità e mutabilità la scorsa volta la lista è mutabile quindi può essere modificata creata e poi modificata ad esempio abbiamo sempre la nostra lista to buy ci accorgiamo che il primo elemento non ci va bene vogliamo sostituirlo con un altro elemento lo possiamo fare senza dover ricreare la lista da capo come facciamo a fare questa modifica? beh semplicemente to buy a posizione zero quindi l'elemento che vogliamo modificare ci associamo un altro valore butter in questo caso e in questo caso sostituiamo l'elemento a posizione zero lo possiamo fare senza nessun problema se stampiamo tutta la lista la lista sarà quella modificata si può modificare quindi si può anche creare vuota eventualmente e poi può essere riempita aggiungendo uno per volta gli elementi che ci interessano questa è una possibilità vuota o con alcuni elementi sempre la nostra lista to buy ci accorgiamo di dover comprare ancora qualcosa va bene possiamo aggiungere un elemento alla lista con che metodo? col metodo append il metodo append come si può intuire appende in coda quindi aggiunge un elemento al fondo della lista quindi to buy.append chocolate farà sì che la nostra lista conterrà eggs, milk e chocolate quindi da due passerà a tre elementi quindi metodo append per aggiungere elementi a una lista l'append serve per aggiungere un elemento a una lista esistente ok quindi tu hai una lista con due elementi in questo caso la tua lista della spesa ha due elementi apri il frigo ti accorgi che ti manca qualcosa vuoi aggiungerlo a questa lista lo puoi fare tramite l'append ok quindi append aggiungiamo un elemento per volta alla lista possiamo anche aggiungere più di un elemento per volta ok questo si fa col metodo extend d'accordo? vedete la differenza tra la append che tra parentesi tonde ha un solo elemento chocolate e la differenza con extend vedete che nella extend come parametro a sua volta c'è un'altra lista cosa stiamo facendo qui? stiamo prendendo la lista to buy che al momento contiene quanti elementi? tre in realtà perché c'è un append prima quindi eggs, mic, chocolate prendiamo questa lista to buy e la estendiamo aggiungendoci in una volta sola due elementi quindi questa lista dopo l'extend avrà cinque elementi ovviamente lo stesso comportamento si poteva ottenere con due append scusate una di fila all'altra però è conveniente se sappiamo di voler raggiungere più di un elemento nella lista possiamo usare la extend attenzione come parametro ci dovrà essere una sequenza e qui è il risultato con la lista finale che avrà cinque elementi lo stesso tipo di comportamento oltre che con la extend si può usare con la concatenazione così come si possono concatenare stringhe anche le liste possono essere concatenate quindi queste righe di codice qui fanno esattamente quello che faceva il programmino di prima con l'extend to buy uguale to buy più quindi prendiamo quello che c'è adesso in to buy e ci concateniamo un'altra lista di due elementi uguale a prima concatenazione di liste non c'è una soluzione migliore o peggiore dell'altra potete scegliere quale utilizzare altri modi per modificare una lista allora supponiamo di avere la nostra lista della spesa che adesso ha cinque elementi come vedete nella slide se ci accorgiamo che non ci serve l'ultimo elemento che abbiamo inserito l'abbiamo inserito per sbaglio per qualche strano motivo possiamo eliminarlo con una pop ok la pop elimina l'ultimo elemento inserito d'accordo? quindi se non mi serve il formaggio ad esempio che è l'ultimo elemento della lista che ho inserito va bene to buy.pop che cosa fa questo? modifica direttamente la lista la lista diventerà di quattro elementi senza senza l'ultimo se mi accorgo di aver sbagliato di aver inserito un elemento che non mi interessa non al fondo ma in una posizione qualsiasi della lista posso usare lo stesso metodo pop specificandogli tra parentesi la posizione dell'elemento che non mi interessa quindi pop di 1 che cosa farà? prenderà l'elemento posizione 1 lo cancella e comprime la lista eliminando quell'elemento possiamo fare ancora di più non è detto che noi sappiamo a che posizione sia un determinato elemento noi magari abbiamo inserito il latte ma non ci ricordiamo esattamente la posizione in cui l'abbiamo messo allora possiamo rimuovere un elemento a partire dal suo valore ad esempio to buy.remove di cheese e va bene rimuoviamo sempre l'elemento in fondo cheese ma non sulla base della sua posizione ma sulla base del suo contenuto vogliamo rimuovere il latte to buy.remove milk ok? ovviamente in questo corso non abbiamo tempo di approfondire dettagli come la complessità il tempo che ci mettono tutte queste funzioni ad essere eseguita eseguite ovviamente vi posso dire che un accesso posizionale come quello di prima è molto più veloce rispetto ad un accesso per valore perché qui ovviamente che cosa succederà? python dovrà andare a scorrere internamente questa lista fino a quando troverà il valore desiderato e quindi è più lento rispetto a un accesso posizionale che è diretto d'accordo? nonostante questo anche qui per gli scopi di questo corso potete usare i metodi che che vi servono di più e che vanno meglio per l'esercizio che state facendo ok? quindi pop eliminazione con accesso posizionale remove specificando il valore altro modo così come abbiamo visto lo slicing per le stringhe c'è lo slicing anche per le liste sia stringhe che liste sono delle sequenze e possiamo prenderne parte di esse attraverso lo slicing vabbè qui vedete già la soluzione ma abbiamo la nostra solita lista di cose da comprare se ne faccio lo slicing da 1 a 3 il concetto è uguale a quello che abbiamo visto la volta scorsa start e end qui non c'è lo step specificato partiamo da posizione 1 inclusiva finiamo a posizione 3 esclusiva quindi in sostanza finiamo a posizione 2 quindi prenderemo la sottolista di to buy che parte da posizione 1 0 1 milk e finisce a posizione 2 chocolate quindi lo slice in sostanza mi elimina degli elementi e mi ritorna una sottolista inclusa nella lista originale stessa sintassi esattamente uguale di quella che abbiamo visto per le stringhe e vabbè questa figura fa un po' vedere quello che ci siamo detti ma già la volta scorsa quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro c'è anche un link se volete approfondire però di nuovo i concetti sono esattamente identici a quelli che abbiamo visto la volta scorsa per le stringhe vediamo un attimo si con lo slice ovviamente lo vediamo meglio dopo ma se specifichiamo uno slice del genere come nella slide quindi tra parentesi quadre un due punti e basta che cosa significa questo vabbè c'è scritto nel commento però perché se non specifichiamo start and che cosa succede dall'inizio alla fine andiamo ok quindi con una sintassi del genere in sostanza facciamo una copia della lista d'accordo prendiamo la sottostringa che coincide la sottolista che coincide con la lista originale e questo equivale a fare una copia della lista che poi in questo caso viene salvata in un'altra variabile per poi poter fare quello che ci serve vedremo dopo un esempio su questo ok allora lo slice abbiamo visto ci restituisce una sottostringa una sottolista o sottostringa è lo stesso associato alla parolina chiave del come qui nella slide nella slide lo slice può anche essere usato per cancellare una parte della lista d'accordo mentre lo slice chiamiamolo normale ci ritorna una sottolista con la parolina chiave del questa sottolista viene cancellata direttamente dalla lista originale quindi questa del associata a to buy da 2 a 6 che cosa farà come sarà to buy dopo questa operazione che elementi conterrà i primi due ok quindi da posizione 2 0 1 2 da chocolate fino a posizione 6 in realtà 5 perché è esclusivo quindi fino a cheese cancelliamo del e quindi la lista sarà eggs milk sì 0 1 2 3 4 esatto sì qui stiamo andando oltre al c'è probabilmente un errore sarebbe da 2 a 5 o da 2 a niente quindi fino alla fine non so se da un'eccezione questa roba qui possiamo provare allora fatemi aprire repl così iniziamo ad aprirlo ne creiamo uno nuovo diciamo lezione 2 e vediamo se questa cosa dà un'eccezione oppure se python capisce che può che può andare oltre e prendere fino alla fine allora ci definiamo una lista di 5 elementi vabbè facciamo quei numeri tanto uguale 4 5 e poi cerchiamo di eliminare la parte della lista che va da 2 a 6 vediamo cosa succede facciamo anche una print dopo e vediamo ok non succede niente anche se specifichiamo una end che è al di là del limite lui va comunque fino alla fine però era più corretto come avete detto voi scrivere 5 5 o non scrivere niente oppure scrivere l'end di lista è chiaro perché l'end di lista può andar bene andiamo fino alla sua fine no non l'end di lista meno 1 ma l'end di lista perché l'end appunto è esclusivo quindi quel meno 1 lì c'è già implicitamente nella nella sintassi dello slice ok torniamo alle slide cosa importante lo slice ritorna una nuova lista lo slice usato in maniera tradizionale con la del modifichiamo direttamente la lista to buy d'accordo perché è una del su to buy anche se usiamo lo slice ma in generale lo slice quando invece al posto di cancellare prendiamo una sottolista questa sottolista è una nuova lista non andiamo a modificare la lista originale d'accordo quindi se noi per essere chiari noi abbiamo questa lista vogliamo prenderne solo una parte ad esempio la parte che va da 1 a 3 facciamo uno slice da 1 a 3 questa roba qui ovviamente non modifica lista se io dopo aver fatto lo slice faccio una print della lista la mia lista continua ad avere gli stessi elementi di prima perché questa roba qui ritorna una nuova lista e quindi se la voglio me la devo salvare da qualche parte ad esempio in una variabile che chiamo nuova lista ok nuova lista uguale lista da 1 a 3 adesso nuova lista conterrà il mio slice ma è una nuova stringa lista continua a essere quella di prima questo in generale tuttavia abbiamo anche la possibilità di usare lo slice alla sinistra dell'uguale ok che cosa succede se noi usiamo lo slice a sinistra dell'uguale abbiamo l'opportunità di cambiare tutti quegli elementi della lista originale che stanno in quel determinato slice lì allora supponiamo che io da a lista che sta tra 1 e 3 al posto di quello che c'è voglio associare il valore 0 allora lista da 1 e 3 da dove va da 2 dal 2 fino a posizione 2 quindi 2 e 3 e questa sottolista qui giusto concordate ok ok supponiamo che io a quei due valori lì voglia sostituire 0 posso farlo mettendo lo slice a sinistra dell'uguale quindi dico a questa sottolista qua associamoci 0 al posto di 2 e 3 in questo caso attenzione però se faccio così c'è un'eccezione perché perché io sto andando ad indicare un valore singolo in un qualcosa che contiene due posizioni e python non è in grado non è sufficientemente intelligente da capire che deve prendere quello 0 e replicarlo nelle due caselle come possiamo fare a dirgli che abbiamo due 0 con la virgola così vediamo non credo si funziona altrimenti possiamo dargli una lista ok vabbè pensavo che le parentesi quadre fossero necessarie in realtà non lo sono basta la virgola ma il concetto è che dobbiamo specificargli una sequenza c'è ancora un'altra possibilità attraverso l'abbiamo visto velocemente la volta scorsa attraverso la per quindi con la per riusciamo a replicare questo 0 quante volte vogliamo 0 per 2 ovviamente lo 0 tra parentesi quadre perché altrimenti un'operazione così viene presa come un'operazione semplicemente matematica 0 per 2 0 ed è la stessa cosa di prima invece una sequenza replicata due volte quindi con lo slice a sinistra dell'uguale andiamo a modificare la lista originale ma è un modo diverso di utilizzarlo ok questo lo abbiamo visto adesso differenze tra string e liste no è vero la stringa abbiamo detto è una sequenza di caratteri questo è vero tuttavia una lista di caratteri non è una stringa qual è la prima differenza che vi salta in mente non ci sono le parentesi quadre si è vero esatto bravissimo una è mutabile l'altra è mutabile ad esempio in ogni caso possiamo sempre passare da stringa a lista tramite la funzione di conversione list quindi se io ho una stringa language name python e questa variabile la passo alla funzione built in list che cosa otterrò una lista in cui ogni elemento è un singolo carattere della mia stringa può servire in qualche caso quindi se volete proviamo anche a fare questo esempio supponiamo di avere una variabile nome uguale mario stampo direttamente print list di nome vedete la funzione list mi ha trasformato la mia stringa in una lista in cui ogni elemento è il singolo carattere della stringa data una stringa oltre che trasformarla in una lista con i singoli caratteri se abbiamo una stringa magari una frase possiamo sempre anche dividerla e ottenere una lista di in questo caso parole quindi abbiamo questa sentence una variabile stringa che ha tre parole vogliamo la lista di parole in questa stringa va bene variabile punto split vedete che nella split non c'è scritto niente questo implicitamente divide la stringa secondo gli spazi che vengono trovati all'interno di essa e quindi la la nostra lista words conterrà le tre parole divise in una in una lista o allora copia di liste concetto un po' particolare per affrontarlo vi vi propongo di utilizzare un un tool interattivo nuovo che era menzionato nel slide di introduzione che è python tutor lo trovate facilmente digitando su google python tutor che cos'è questo questo tool fatemi ok questo tool ci permette di un po' come repl scrivere del codice python eseguirlo ma oltre a questo ci fornisce anche delle rappresentazioni visuali molto utili che ci fanno capire che cosa succede teoricamente in memoria d'accordo quindi vi fornisce delle rappresentazioni abbastanza fedeli di come python salva in memoria le proprie variabili i propri oggetti d'accordo e lo utilizziamo per vedere il concetto della copia delle liste allora supponiamo di avere una lista di frutti si ah si giusto devo scusatemi non ho fatto dicevo questo è il tool vedete ci permette di scrivere del codice python e poi vedremo la visualizzazione che ci propone supponiamo di avere una lista di frutti ok una lista che contenga arance e mele d'accordo magari faccio un po' di zoom ok adesso per qualche strano motivo mi serve una copia di questa di questa lista per poterci lavorare sopra allora io potrei pensare di fare questa cosa qui avere un'altra variabile chiamiamola frutti favoriti i miei frutti favoriti uguale frutti ok faccio una copia della mia della mia lista adesso aggiungo un elemento alla mia lista di frutti originale va bene frutti punto append pere ok adesso secondo voi che cosa contengono le due liste se facessi una print di frutti e poi subito una print di frutti favoriti qualcuno si sbilancia che cosa contiene frutti arance mele pere frutti favoriti allora qualcuno ha detto arance mele qualcuno arance mele pere chi ha ragione mi sembra che arance mele pere sia la risposta più gettonata e avete ragione vediamo perché l'abbiamo in parte già visto la volta scorsa però python tutor ci ci aiuta in questo senso se clicchiamo su visualizza esecuzione ok ci apre questa nuova finestra in cui vedete che abbiamo un cursore rosso che ci indica dove il programma è fermo in questo momento adesso non abbiamo ancora eseguito niente quindi siamo sulla prima riga abbiamo l'opportunità o di eseguire tutto il codice in una volta sola cliccando su last o di eseguirlo passo passo facciamo questa soluzione qui clicco su next e vedete che python tutor sulla destra mi visualizza che cosa è successo abbiamo definito una variabile frutti che nel nostro caso come abbiamo visto la volta scorsa è un riferimento all'oggetto che identifica la nostra lista quindi abbiamo un oggetto che contiene due elementi arance e mele la nostra lista e frutti è un riferimento a questo oggetto chiaro? se adesso facciamo la seconda riga che cosa succede? non viene assolutamente creata una copia semplicemente frutti favoriti è un altro riferimento allo stesso oggetto quindi abbiamo due riferimenti allo stesso oggetto se adesso facciamo un append a frutti che cosa succede? beh ovviamente di lista qui ne abbiamo una sola e quindi verrà aggiunta a questa lista unica che è referenziata da entrambe le variabili quindi sia frutti che frutti favoriti puntano la stessa cosa alla stessa lista quindi non ho in realtà fatto una vera copia della lista ho solo definito un altro riferimento per la stessa lista e quindi le due print come si visualizza qua nella console ci danno lo stesso risultato allora se ci serve una copia di una lista che per non sporcare la lista originale come possiamo fare? abbiamo diverse possibilità la prima come abbiamo visto prima è fare uno slice uno slice di tutta la lista come abbiamo visto prima lo slice ci ritorna una nuova lista e se andiamo a visualizzare l'esecuzione cosa succede? va bene definiamo frutti a questo punto però frutti favoriti è uno slice di frutti vedete cosa succede? si crea una nuova lista adesso le liste sono due ed è quello che volevamo fare se adesso aggiungiamo pere a frutti pere viene aggiunto solo alla lista originale non alla sua copia e quindi in questo caso abbiamo effettivamente fatto una copia di liste quindi occhio questo è un concetto importante da tenere a mente quando quando facciamo i nostri esercizi ci sono altri modi per fare copie di liste oltre allo slice uno ad esempio è usare la funzione list anche la funzione list ci ritorna una copia di una lista è equivalente allo slice che abbiamo visto prima c'è ancora una soluzione in più che è quella di definire frutti favoriti come una ops non voglio stampare niente come una lista vuota e poi estenderla frutti favoriti punto extend con i valori della lista originale frutti ok la definisco vuota e poi la estendo anche in questo caso creiamo una vera copia della lista quindi tre modi equivalenti per copiare liste domande su questo questo l'abbiamo visto e qua sono i due metodi i tre metodi alternativi per copiare ovviamente come per le stringhe vi consiglio caldamente se non vi ricordate qualcosa se vi serve qualcosa di particolare di consultare sempre la documentazione che è un buon punto di partenza per scoprire nuove cose queste erano le liste passiamo alle tuple che è un'altra struttura dati un'altra sequenza di python le facciamo molto velocemente perché si sempre lo schermo no fatemi fare così le facciamo molto velocemente le tuple qui c'era la slide con la documentazione perché l'unica differenza con le liste è che sono immutabili quindi sono praticamente uguali alle liste tolto che non si possono modificare e questo non essere modificabili fa sì che ovviamente non abbiano diversi metodi che invece hanno le liste ad esempio l'append ovviamente non possiamo appendere a una tupla perché non è modificabile d'accordo anche qui come per le liste possiamo salvare dati anche di tipi diversi ma ve lo sconsiglio e possiamo anche creare delle tuple a partire da una lista sempre con queste classiche funzioni di conversione in questo caso con la funzione tuple my tuple uguale tuple aperte parentesi tonde e come parametro gli passiamo una lista che cosa succede qui prendiamo la lista 1 2 3 e la trasformiamo in una tupla se ci serve ovviamente possiamo creare tuple con un solo elemento anche se è un po' strano per farlo abbiamo queste due notazioni qui o usiamo 1 virgola ecco perché prima funzionava quella sintassi che abbiamo visto senza le parentesi quindi mettendo una virgola senza nessuna parentesi in automatico viene creata una tupla quindi my tuple uguale 1 virgola creiamo una tupla di un singolo elemento di valore 1 prima avevamo messo 0 virgola 0 non lo sapevamo ma abbiamo creato una tupla di due elementi 0 0 l'altra possibilità è usare le parentesi tonde tuttavia ci va sempre la virgola perché altrimenti quel numero quelle parentesi vengono interpretate come delle parentesi che da utilizzarsi in una espressione matematica mentre con la virgola python capisce che non stiamo cercando di fare 1 più 1 ma stiamo definendo una una tupla se vogliamo creare una tupla vuota anche se qui di nuovo non ha molto senso perché poi non può essere modificata le due parentesi tonde fine delle tuple tanto queste erano le differenze principali con le liste i set l'ultima sequenza che vediamo allora come in matematica i set definiscono una struttura dati una sequenza che ci salva un set non ordinato di oggetti che non possono essere duplicati allora partiamo dal concetto di non ordinati allora noi sappiamo cioè dovremmo sapere che nelle liste e nelle tuple o quantomeno possiamo intuirlo gli elementi sono salvati in ordine ad esempio la pop ci eliminava l'ultimo elemento che avevamo inserito quindi l'ultimo elemento che avevamo inserito con la pend giusto? vedremo dopo il forno se noi scorriamo una lista con un ciclo for stampando negli elementi noi siamo sicuri che questo che l'ordine con cui scorriamo questa lista è quello con cui abbiamo inserito gli elementi nella lista questo non è vero per i set noi non possiamo dire a priori con che ordine vengono salvati gli elementi all'interno di un set quindi già qui come prima indicazione se ci servono i dati ordinati per qualche motivo supponiamo un elenco di nomi ordinati alfabeticamente e il set non è la struttura dati che ci serve ok meglio le liste l'altra differenza con tuple e liste è che i set non possono contenere duplicati ok quindi facciamo degli esempi pratici torniamo un attimo a repl.it lezione 2 i set si creano con le parentesi graffe quindi supponiamo di avere una variabile mio set questo può contenere un insieme non ordinato di elementi distinti supponiamo dei numeri 2 3 4 questo è un set con 3 elementi che cosa succede se io inserisco due volte lo stesso elemento in un set ne salva ne salva uno solo esatto collassa quei due 4 in un unico 4 quindi se io provassi a stampare ad esempio la len del mio set ok questa non sarà 4 ma sarà 3 perché 3 perché mio set contiene solo valori distinti quindi 2 3 4 che cosa ci fa capire questa cosa qui che il set è molto utile quando a partire da una struttura dati come una lista che contiene valori anche duplicati abbiamo la necessità di estrarre i valori univoci che sono contenuti in quella struttura dati ad esempio supponiamo di avere una lista di nomi che contenga non è più un set ma una lista che contenga i nomi una serie di nomi quindi Mario Giovanni magari i nomi degli studenti di una classe magari ci sono due Mario e magari c'è un Carlo e magari c'è un altro Giovanni se noi vogliamo da questa lista estrarre i nomi univoci presenti in una classe lo possiamo fare molto semplicemente trasformando questa lista in un set quindi con la funzione di conversione set trasformo nomi in un set di nomi vedete Carlo, Mario e Giovanni ho estratto i dati univoci che sono presenti all'interno della lista anche qui salta subito all'occhio il concetto che non c'è l'ordinamento vedete che li ha mischiati un po' come voleva lui no? c'è prima Carlo rispetto a Mario mentre nella lista era il contrario proprio perché nel set non possiamo sapere a priori l'ordine con cui vengono salvati i dati questo l'abbiamo visto si possono creare dei set a partire da altre sequenze anche a partire da una string set di Pippo l'ultima istruzione ci crea un set con le lettere univoche presenti in Pippo quindi P-I-O può essere utile in alcuni esercizi per creare un set vuoto il set è mutabile quindi si può modificare non possiamo usare le due parentesi e basta le due parentesi graffe e basta perché le due parentesi graffe e basta creano un dizionario che è la struttura dati che vedremo tra poco allora si usa direttamente la funzione set set con due parentesi tonde senza specificare niente vuol dire crea un set vuoto che poi possiamo riempire mano a mano aggiungendo degli elementi allo stesso set posso vedere una cosa ho un vuoto di memoria vediamo qua mio set uguale set di nomi al set si aggiunge tramite sempre l'append o l'add non mi ricordo mai proviamo append Alberto non sto schermando come sempre ok non è l'append il metodo per raggiungere un set dovrebbe essere l'add si è l'add non ha dato eccezioni quindi ovviamente anche io non mi ricordo mai a memoria tutte le istruzioni ogni volta ho dei vuoti di memoria perché a volte penso in java a volte in python a volte in c però se non ci ricordiamo una cosa è facile provarla oppure consultare la documentazione quindi a differenza delle liste che hanno l'append in coda il set ha l'add e è anche giusto perché appunto l'append aggiunge in coda qui non abbiamo una vera coda perché non sappiamo dove viene aggiunto l'elemento non c'è un ordine e quindi è giusto che anche il metodo si chiami in un modo diverso sul set abbiamo anche sui set abbiamo anche l'opportunità di eseguire quelle operazioni che tipicamente in matematica vengono eseguite sui set quindi dati due set diversi set 1 set 2 possiamo farne la differenza l'unione l'intersezione eccetera ad esempio set 1 meno set 2 ci darà un set che contiene tutti gli elementi del primo set che non sono contenuti anche nel secondo quindi 1 e 2 giusto poi vabbè abbiamo l'intersezione eccetera le classiche operazioni le possiamo fare esattamente così con questi operatori matematici funziona se i due operandi sono due due set domande sui set o in generale su quanto visto fino ad adesso ok vediamo allora l'ultima struttura dati principale che vedremo in questo corso poi abbiamo ancora un po' di cose da aggiungere tipo i cicli e poi ci sarà il primo finalmente esercizio i dizionari dizionari sono una struttura dati per salvarsi un insieme di coppie chiave valore non in sequenza non necessariamente in sequenza qual è la rappresentazione più comune di un dizionario la rubrica telefonica nome numero la rubrica è un dizionario che salva una serie di coppie nome numero dove il nome è la chiave e il numero è il valore quindi coppie chiave valore qui ad esempio abbiamo due dizionari il primo che salva le direi zampe degli animali quindi la chiave un animale una stringa il valore è il suo numero di zampe il secondo è vabbè un dizionario che si salva i vari stati con le loro sigle la chiave lo stato completo la sigla è il valore vedete come sintassi abbiamo le parentesi graffe anche qui come per i set ma poi al suo interno abbiamo delle coppie coppie che al loro interno sono divise tra chiave valore da un due punti e poi le varie coppie tra di esse sono divise da una virgola quindi chiave valore la chiave ovviamente deve essere immutabile vedremo che non solo deve essere immutabile ma in gergo python deve essere hashable ora vi spiego non andiamo nei dettagli ma i dizionari si basano su un concetto chiamato le tabelle di hash non so se le avete viste in altri corsi ok come funziona in sostanza sulla nostra chiave python può calcolare un valore di hash applicando una determinata funzione matematica e questo valore di hash che è semplicemente un numero è l'indirizzo in memoria di dove viene salvato il corrispondente valore ok questo ci va a capire che accedere a un elemento a partire dalla sua chiave quindi ad esempio in una rubrica accedere al numero di mario è immediato perché è immediato perché python riesce ad applicare una funzione matematica su mario che è la chiave recuperare in modo velocissimo un numero che sarà direttamente l'indirizzo in memoria del numero di mario ok questo ci fa capire che ovviamente le chiavi non possono cambiare perché altrimenti non possono mutare perché altrimenti tutto questo meccanismo crolla ok però appunto le chiavi devono essere hashable ovvero immutabili ma devono anche permettere a python di poter calcolare applicare una funzione di hash su di essi quindi di solito le chiavi sono ad esempio string che sono immutabili numeri che sono immutabili non troverete mai una chiave di tipo lista ad esempio i valori invece possono essere qualunque cosa quindi numeri liste stringhe eccetera questo è quello che abbiamo detto quindi sicuramente aggiungere una coppia chiave valore a un dizionario per quello che vi ho detto in modo molto generico però non abbiamo tempo di andare nei dettagli è immediato in realtà anche aggiungere a un set a una lista è immediato quello che è il vero vantaggio degli dizionari è proprio questo accedere a un elemento data la sua chiave e qui è dove i dizionari eccellono ovviamente le chiavi per lo stesso discorso che vi ho fatto prima le chiavi non possono essere duplicate non posso avere due numeri due mario in rubrica perché altrimenti ci sarebbero delle inconsistenze per creare un dizionario vuoto che è mutabile il dizionario non le chiavi il dizionario in generale è mutabile parentesi graffe singole my dict uguale aperta e chiusa graffa sul dizionario possiamo avere diversi metodi ne vediamo alcuni il dizionario punto keys ritorna una sequenza che contiene tutte le chiavi incluse nel dizionario proviamo a farlo supponiamo di avere la nostra rubrica è un dizionario quindi apro e chiudo le parentesi graffe va bene mario la prima chiave due punti il suo numero di telefono 333 bla 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 virgola questa è la prima coppia poi magari abbiamo carlo due punti papapà papapà poi abbiamo beatrice non lo so due punti bla 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 e poi marta due punti eccolo qua questo è il nostro dizionario abbiamo una rubrica di quattro coppie quattro numeri allora se noi lo stampiamo brutalmente un po' come per le stringhe la stampa non viene molto carina si stampa tutto comprese le parentesi due punti eccetera vedremo dopo come scorrere elemento per elemento ma proviamo ad applicare un po' di metodi che si possono fare sui dizionari il metodo punto keys quindi il mio dizionario punto keys ci restituisce l'insieme delle chiavi una sequenza di chiavi proviamo un po' infatti ora lo ingrandisco vedete abbiamo questo tipo un po' particolare dict keys che è un altro tipo di struttura dati di python che però è una sequenza vedete che scusate non riesco ok vedete che ci sono le parentesi quadre comunque e questa sequenza contiene mario carlo beatrice marta che ho sbagliato esatto le chiavi i nomi sono le chiavi di questo dizionario tutto quello che sta a sinistra del due punti quindi ci serve sapere chi c'è in rubrica solo i nomi rubrica punto keys se vogliamo possiamo se questo dict keys questo tipo non ci piace possiamo trasformare rubrica punto keys ad esempio in un set perché uso set e non list perché tanto so per definizione che le chiavi in un dizionario sono univoche voglio invece tutti i numeri di telefono senza i numeri punto values a questo punto non sarà più un set ma una lista perché i numeri di telefono potrebbero in una rubrica magari no ma in generale i valori possono essere anche duplicati vedete adesso ho una lista dei numeri di telefono della mia rubrica ho anche il metodo items rubrica punto items togliamo list rubrica punto items ci ritorna una sequenza dove ogni elemento è la coppia ora questo potrà sembrarvi inutile tanto valeva stampare direttamente il dizionario è utile però vedremo dopo quando vogliamo ciclare sul dizionario coppia per coppia una coppia per volta ok come si aggiunge in rubrica mi sembra con la put ma proviamo rubri proviamo a farlo prima di stampare stampiamo magari tutta la rubrica ho questa mia rubrica che contiene quattro numeri potrei voler aggiungere un numero rubrica punto put non sono sicuro ma ci proviamo dobbiamo specificargli ovviamente due valori la chiave un nuovo utente che ne so aldo virgola il suo numero di telefono proviamo non è la put add non è la add non me lo ricordo lo vado a cercare vediamo se me lo propone no ok ho sbagliato la sintassi in altri linguaggi si fa con la put qui si fa in questo modo qui specifichiamo il mio dizionario tra parentesi quadre la chiave un po' come se fosse la posizione in realtà qui non usiamo un numero ma una stringa perché le chiavi sono stringhe uguale il nostro valore questa roba qui aggiunge una nuova chiamiamola casellina aldo associandogli il suo numero infatti al fondo c'è aldo ok questo l'abbiamo visto qua un po' di cose la stampa l'abbiamo visto questa è l'aggiunta che ho fatto adesso aggiungiamo un ragno con 273 gambe aiuto ok infatti ovviamente mi sono sbagliato avessi un ragno con 273 gambe è meglio scappare lo posso modificare con la stessa sintassi quindi se usiamo una chiave e questa chiave la prima volta che viene vista viene creato un nuovo elemento e aggiunto al dizionario se questa chiave esiste già il valore viene modificato vedete abbiamo sia l'aggiunta che la modifica in questo caso tutto per dire che i dizionari sono mutabili i dizionari nel loro complesso quindi i valori in questo caso come facciamo invece a rimuovere elementi vabbè possiamo usare la parolina la keyword come abbiamo visto prima del 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 nostro dizionario e tra parentesi quadre la chiave ci cancella la coppia associata in questo caso a spider ok quindi dopo questa istruzione qui avremo un dizionario di nuovo solo più due elementi il primo e il secondo se vogliamo cancellare del tutto il contenuto di un dizionario metodo punto clear come facciamo invece a prendere un elemento del dizionario supponiamo la mia rubrica banalmente sul mio telefono sto cercando un numero digito il nome e il mio telefono deve ritornarmi il numero di telefono associato a quel nome no? allora per ottenerlo in python sempre la stessa sintassi quindi dizionario e tra parentesi quadre la chiave quindi dizionario tra parentesi quadre ant mi ritorna 6 che è il valore associato ad ant cosa succede se adesso con questo dizionario provo a recuperarmi le gambe del ragno che ho eliminato sto cercando di accedere ad una chiave che in realtà non esiste nel dizionario e succede come al solito che viene scatenata un'eccezione ok e come facciamo ad evitare questa eccezione perché noi ovviamente non vogliamo che accadano eccezioni nel nostro programma supponiamo adesso di voler stampare la rubrica di un nome che non ci sia Alberto il mio nome ora il mio nome non è in rubrica quindi se io faccio una roba del genere ho questa brutta scritta rossa che vogliamo evitare quindi come facciamo in questo caso visto che non sempre siamo sicuri che il valore che ci serve è nel nostro dizionario prima di recuperare un dato dobbiamo sempre assicurarci che questo ci sia nel dizionario e lo possiamo fare tramite la parolina chiave la keyword in quindi prima di recuperare rubrica di Alberto mi chiedo se Alberto è in rubrica quindi if Alberto la chiave in rubrica due punti schiaccio il tab per andare quattro spazi in là e faccio la print di Alberto solo se Alberto è in rubrica altrimenti else magari stampo un messaggio di errore l'utente non è in rubrica in questo modo qui riusciamo a metterci al riparo da qualunque eccezione infatti stampiamo l'utente non è in rubrica quindi attenzione prima di recuperare un dato da un dizionario sempre controllare che questo dato ci sia che la chiave associata a questo dato ci sia vedremo dopo che possiamo gestire le eccezioni anche in un altro modo ma questo controllo dell'input è già un buon modo per per evitarle ok questo è quello che ho detto prima l'alternativa a usare il metodo get il metodo get quindi dizionario punto get della nostra chiave al posto di fare legs tra parentesi quadre spider faccio legs punto get di spider in questo caso se questa chiave non c'è non viene generata un'eccezione ma semplicemente la funzione get restituisce none che è quella keyword che abbiamo visto la volta scorsa che identifica l'assenza di valore e poi su questa cosa qui posso fare quello che voglio ovviamente se dico ok gambe uguale legs punto get di spider e poi faccio qualche operazione su questa variabile gambe che contiene none e ovviamente ci sarà a sua volta un'eccezione perché quella variabile non ha nessun valore associato quindi bisogna sempre fare attenzione a quello che si fa domande dubbi ci stiamo avvicinando verso la fine di questa carrellata un po' noiosa abbiamo finito le strutture dati andiamo do solo una controllata ok ci mancano per arrivare al primo esercizio e poi alla pausa che ci meritiamo i cicli ok i cicli sono un altro concetto fondamentale di ogni linguaggio di programmazione insieme alle variabili e in python utilizzeremo prevalentemente il while loop e il for loop così come in c il for loop è utile utilizzato quando sappiamo a priori quanti giri del ciclo dobbiamo fare quindi ad esempio per scorrere una sequenza noi sappiamo quanto è lunga la sequenza utilizziamo un for per scorrere elemento per elemento di quella sequenza il while loop invece di solito è utilizzato quando a priori non sappiamo quanti giri faremo ma abbiamo una condizione da controllare ogni volta e finché questa non diventa falsa continuiamo a ciclare chiaro questo sì quindi il while loop esegue un blocco di istruzioni abbiamo visto prima che in python l'altra volta un blocco di istruzioni è delimitato dagli spazi ok eseguiamo questo blocco finché la condizione del while diventa falsi a differenza di altri linguaggi in python il ciclo while può anche avere una clausola di else ok questa clausola di else vedremo un esempio viene eseguita quando la condizione del while diventa falsi allora facciamo un esempio ovviamente come in c si può sempre uscire da un ciclo con l'istruzione break penso l'abbiate vista in c oppure possiamo ritornare il controllo all'inizio del ciclo senza uscire ma magari saltando le ultime istruzioni che ci sono nel blocco con la funzione continue ma vediamo un esempio di questa else che è la cosa che differenzia di più il ciclo while di python da altri linguaggi cancello la mia rubrica allora supponiamo di avere una variabile intera numeri o contatore cont uguale a 0 e di voler ciclare fin quando cont è minore di 10 ok quindi finché contatore è minore di 10 che ne so stampo il contatore e ovviamente lo incremento se no sto fermo lì cioè se no entro in un ciclo infinito cont uguale cont più 1 chiaro cosa fa questo semplicissimo e stupidissimo programma si stampa da 0 9 possiamo avere come detto una clausola di else vedete allineata con il while al fondo in cui possiamo fare delle cose quando questa condizione qui diventa falsi allora io potrei stampare print ho finito il ciclo o per semplicità se no va a capo e non mi piace scriviamo solo ho finito allora proviamo a lanciare questo programma vedete ha stampato i numeri fino a 9 poi questa condizione è diventata falsi e ha stampato ho finito voi mi direte vabbè ma potevo far così no questa roba qui fa la stessa cosa ed è vero qual è il vantaggio se può essere definito un vantaggio della della else è questo la else viene eseguita solo quando questa diventa falsi quindi solo quando raggiungiamo effettivamente la fine del ciclo supponiamo che per qualche strano motivo all'interno del nostro ciclo abbiamo una condizione per cui usciamo prima quindi supponiamo di avere if cont uguale uguale a 5 le parentesi non servono break cosa succede qui qui usciamo dal ciclo nonostante questa condizione non sia diventata falsi questo è il caso in cui la else non è stampata stampata o non è non è eseguita diciamo meglio quindi può servire se vogliamo eseguire del codice solo quando il ciclo arriva naturalmente alla sua conclusione e non viceversa è chiaro di nuovo è una carrellata di cose non è detto che vi servirà però se vedete una else associata a un while in python è per questo motivo domande domande ok vabbè questo è l'esempio che abbiamo fatto il for tendenzialmente in python il for è sempre usato per iterare su un oggetto iterabile che cos'è un oggetto iterabile è un oggetto su cui si può ciclare che contiene una serie di elementi un esempio sono le sequenze anche nei for possiamo usare break e continue anche nel for possiamo avere la else che ha lo stesso comportamento che abbiamo visto adesso quindi evitiamo di vederlo un'altra volta e questo è un esempio di ciclo for su una stringa che cosa fa questo ciclo cicla carattere per carattere della stringa che abbiamo lì quindi for char in hello prendiamo un carattere per volta e lo stampiamo notate la parolina chiave in quindi la sintassi è molto diversa dal c dove avevamo for in t uguale a zero i meno qui di solito abbiamo for variabile in qualcosa di iterabile due punti a capo vedete qui stampiamo un carattere per volta ora il for anche in c spesso lo utilizzavamo per fare un numero determinato di giri supponiamo ci serviva ciclare da 0 a 100 ok for in t uguale a 0 i minore di 100 i più più come replichiamo questa cosa in python con la funzione range la funzione range crea una sequenza di numeri che poi può essere iterata ad esempio all'interno di un for la sua sintassi è simile a quella dello slice più o meno almeno ha delle similitudini accetta tre parametri lo start inclusivo l'end esclusivo lo step ad esempio mi servono i numeri da 0 a 10 come posso definirmeli tramite range quindi numeri uguale range di da 0 a 10 allora come per lo slice 0 inclusivo virgola qui non c'è due punti c'è la virgola questa è l'unica differenza dobbiamo andare fino a 10 quindi dobbiamo specificare 11 li vogliamo tutti quindi 0 1 2 allora non specifichiamo nessuno step volessimo 0 2 4 6 specificheremmo uno step 2 ma non in questo caso ok adesso ciclo for i in numeri due punti print i vediamo un po' 0 1 2 3 4 5 7 bla 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 10 è chiaro quindi quando ci serve un ciclo stile quelli di c da 0 a 100 da 1 a 200 bla 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 usiamo range possiamo addirittura mettere range direttamente qui quindi for i in range ok stessa cosa avanziamo di definire una variabile il range è anche utile quando ci serve generare una lista di numeri non tanto per essere magari ciclate in un for ma per qualche altro strano motivo mi servono i numeri da 1 a 10 non per il for beh faccio quello faccio quello che ho fatto prima numeri uguale range e converto questo range in una lista ok in questo modo ho ottenuto print numeri una lista di numeri che va da 0 a 10 e poi su questa lista posso fare quello che mi serve però per dire che la funzione range la utilizziamo tutte le volte che abbiamo bisogno di generare una lista di numeri consecutivi ok questo è quello che abbiamo visto qui abbiamo uno step quindi che cosa stamperà questo programma abbiamo un range che va da 0 a 25 con step di 5 quindi stamperà 0 5 10 15 20 25 non più perché 25 è esclusivo a volte ed è quasi l'ultima cosa a volte può essere utile se supponiamo di scorrere una lista d'accordo può essere utile oltre che recuperarmi l'elemento della lista che banalmente si recupera con for elemento in lista può essere utile anche recuperarci insieme anche la posizione di ogni elemento nella lista ad esempio in questo esercizio qui abbiamo una lista di parole the quick brown fox e poi un for un po' strano vedete che dopo il for abbiamo due variabili i x e x separati da una virgola in poi non abbiamo solo la lista ma abbiamo enumerate lista enumerate è una funzione built in che cosa fa questo enumerate allora prende l'elemento della lista e lo mette in x e in i x ci associa la posizione di quell'elemento e quindi se noi poi andiamo a stampare ogni coppia abbiamo sia la posizione salvata in i x sia l'elemento quindi riusciamo a stampare che parola zero è d parola uno è quick ok può essere utile vabbè questo è lo scorrere di una lista semplice senza la posizione ma mi sembra sia chiaro funziona allo stesso modo del for sulle stringhe e come già accenato prima possiamo usare il for anche per scorrere un dizionario e stamparlo magari in modo più formattato e qua c'è un esempio dell'utilizzo del punto items quindi qua recuperiamo una coppia per volta chiave valore e in questo caso la chiave messa in nella variabile animal e il valore in number vedete questa sintassi un po' particolare in cui abbiamo for poi una tupla di due variabili dove nella prima variabile viene messa la chiave e nella seconda il valore di ogni singola coppia e quindi possiamo stampare in modo più formattato o come ci pare piace il nostro dizionario senza le parentesi due punti eccetera oh alleluia esercizio facciamo questo esercizio che ore sono 10.24 lo risolviamo e facciamo poi la pausa allora vi propongo di saltare il primo esercizio ce ne sono due uno di fila all'altro ma di fare il secondo ok sulla base di tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso quindi l'esercizio vi chiede di scrivere un programma che prenda in input dall'utente una stringa che può essere lunga a piacere anche una frase anzi deve essere una frase e poi conti la frequenza di tutte le parole presenti nella stringa conti e poi stampi questo risultato supponiamo facciamo un esempio ora qui la scrivo direttamente qui voi dovete prenderla in input dall'utente ma è solo per farvi capire supponiamo che la frase sia ciao a tutti siete tutti invitati a fare l'esercizio che cosa farà dovrà fare questo programma è contare l'occorrenza di tutte le parole cioè il programma dovrà dirmi che ciao è presente una volta nella frase ok che a è presente una due volte che tutti è presente due volte ora io qua ho messo un punto esclamativo supponete di non inserire caratteri speciali ma solo parole però dovete prendere la frase e fare chiamiamolo un indice delle parole dove abbiamo le parole univoche e quante volte appaiono nella frase sta a voi decidere come farlo che struttura dati usare e come stampare l'output ovviamente allora facciamo così vi lascio un quarto d'ora circa giro se avete bisogno chiedete e poi proviamo a risolverlo insieme ok allora una possibilità per risolvere in modo facile questo esercizio è quella come ho cercato di farvi intuire prima di usare un dizionario usarlo un po' come una sorta di mappa io potrei avere questa mia stringa che divido in parole e poi prendo una parola per volta e vado a vedere nel dizionario e mi chiedo ok questa parola che sto analizzando in questo giro del ciclo c'è già nel dizionario se non c'è ancora per me vuol dire che è la prima volta che la vedo ok allora creo una nuova coppia chiave valore in cui la chiave è la parola che sto analizzando e il valore è 1 l'ho vista per la prima volta vado avanti un altro giro del ciclo trovo un'altra parola faccio lo stesso ragionamento questa parola c'è già nel mio dizionario supponiamo di sì ok va bene non creerò una nuova coppia semplicemente vado a prendere il valore associato a questa parola e lo incremento di 1 e alla fine del mio programma avrò questa mia bella mappa che conterrà queste coppie in cui ogni coppia è la parola e ogni valore è il numero di occorrenze di questa parola nella frase vi torna? proviamo a farlo allora prendere in input una frase lo sappiamo fare quindi frase uguale input aperte le parentesi tonde e qui possiamo scrivere un messaggio inserisci una frase poi potremmo anche controllare che l'utente inserisca veramente la frase oppure no ma per il momento lasciamo perdere ci concentriamo sulla consegna vera e propria come si divide una frase in parole? con il metodo split split senza nessun parametro dividiamo per spazi supponiamo qui di non inserire nessun carattere di punteggiatura nessun che complicherebbero le cose supponiamo una frase composta da parole semplici quindi parole uguale frase punto split giusto? parole sarà una lista delle parole presenti in frase adesso la mia idea è mi creo un dizionario vuoto e mano a mano lo riempio e quindi chiamiamo la mappa uguale dizionario vuoto le due parentesi graffe a questo punto implemento il ragionamento che ho detto prima quindi ciclo parola per parola come faccio a farlo? con un ciclo for direi perché sappiamo quanti giri dobbiamo fare for parola in parole giusto? parola sarà la mia variabile che conterrà una parola per volta di quelle contenute in parole adesso controlliamo if la parola che sto analizzando in questo specifico momento in mappa che cosa vuol dire questa cosa qui vuol dire se la parola che sto considerando adesso è già presente nel dizionario se questo è il caso semplicemente vado a prendere il valore associato all'incremento di 1 l'ho vista un'altra volta e quindi dico mappa di parola uguale più uguale 1 se vogliamo fare la notazione breve più uguale 1 altrimenti mappa di parola uguale mappa di parola più 1 prendiamo quello che c'era prima ci aggiungiamo 1 else se siamo qui vuol dire che la parola non è nel dizionario è la prima volta che la vedo e quindi ci vado ad associare il valore 1 mappa di parola uguale 1 in questo caso creo una nuova coppia non c'è il più uguale la creo e ci associo il valore 1 se poi successivamente ritroverò la stessa parola non finirò più qui ma qui e da 1 passerò a 2 alla fine del ciclo vedete che torno tutto a sinistra potrò stampare ora lo stampo in modo un po' brutale si può fare di meglio ma potrò stampare la mia mappa che in automatico mi darà l'output che che mi serve proviamo un po' facciamo una frase che non ha molto senso ma ciao a tutti ciao ciao tutti ok non ha senso ma è solo per mettere dei doppioni vedete mi stampa un dizionario che contiene una lista una una sequenza di coppie che mi dice che ciao è presente tre volte a è presente una volta tutti è presente due volte poi di nuovo questo dizionario si può stampare meglio magari in ordine magari però non è importante capire il ragionamento è chiaro? quindi questo era un esempio di esercizio in cui se capiamo la struttura dati adatta da utilizzarsi poi è abbastanza facile raggiungere una soluzione se non ci sono domande direi che possiamo fare una bella pausa poi vedremo ancora gli ultimi argomenti teorici di python basic credo abbastanza velocemente saranno le funzioni e i file se non sbaglio e poi ci sarà il laboratorio come la volta scorsa in cui lavorerete in autonomia direi un bel quarto d'ora di pausa riprendiamo alle 11 e 5 11 e 10 dicevamo vediamo vediamo velocemente le ultime nozioni riguardo python basic e in questo contesto vediamo anche un esempio di utilizzo di pycharm i moduli che cose sono i moduli in python sono un modo di organizzare in modo logico il codice sono semplicemente dei file con del codice python un po' come le librerie in in c quindi questi moduli possono definire implementare funzioni variabili eccetera e sono appunto delle librerie che possiamo importare non sono presenti nella libreria standard ma possiamo importare ed utilizzare nei nostri programmi un classico esempio è il modulo mat che contiene una serie di funzioni di definizioni relative ovviamente al mondo matematico ad esempio possiamo importare il modulo mat con quella sintassi lì import è il nome del modulo mat ovviamente va fatto all'inizio del file e poi usare tutto quello che questo modulo mat ci mette a disposizione ad esempio in questo caso stampiamo mat.pi pi è una variabile definita da questo modulo che semplicemente contiene il valore del pi greco ma vedremo un esempio credo la prossima volta mat include anche le funzioni per calcolare il seno il coseno eccetera abbiamo tre diversi modi di importare le cose il primo è direi quello standard quello a cui possiamo far riferimento import modulo e poi usiamo modulo punto quello che ci serve di quel modulo il secondo modo possiamo importare selettivamente solo alcune parti di quel modulo ad esempio qui importiamo solo il pi greco from mat import pi vedete che poi possiamo usare direttamente pi senza usare mat davanti però qui siamo un po' limitati perché tutte le altre cose che ci offre mat non ce le abbiamo ok importiamo esattamente solo quella variabile lì l'ultimo modulo modo per importare le cose che vi sconsiglio è quello di importare tutti i nomi all'interno del proprio programma vedete from mat import asterisco con questa cosa qui importiamo tutti i nomi definiti dal modulo mat è vero questo ci avanza di utilizzare mat punto davanti a questi nomi però importiamo davvero troppe cose e quindi poi il nostro programma può diventare pesante quindi i primi due sono quelli soprattutto il primo è il modo con cui di solito si importano i moduli in in python ok l'abbiamo visti velocemente ma non è che li useremo molto i file vedremo che anche nel laboratorio di oggi ci sarà un punto del laboratorio che vi chiederà di lavorare con i file dovreste già aver lavorato con file ad esempio file txt in c ditemi se sbaglio qual è il discorso noi abbiamo i nostri programmini python li lanciamo con qualunque ambiente di sviluppo che vogliamo calcoliamo delle cose il nostro output ma poi quando il programma finisce ovviamente il nostro output è perso ok non è salvato in modo persistente utilizzando dei file possiamo in qualche modo andare a rendere persistenti i nostri dati quindi salvare ad esempio su un file di testo testuale a partire dal nostro programma gli output e poi eventualmente riutilizzarli quando rilanciamo il programma un'altra volta ok la nostra rubrica del telefono non è che tutte le volte che spegniamo il telefono la rubrica sparisce da qualche parte è salvata ora noi vedremo file semplici file di testo però questo è il concetto per lavorare sui file vi propongo di utilizzare PyCharm anche perché con REPL diventa difficile o in generale con i tool online dicevo all'inizio di questa lezione che sono riuscito a far installare PyCharm sui vostri pc vediamo se riesco a trovare la pagina che mi interessa ok c'è anche una pagina dedicata sulla documentazione del laboratorio non so se la usate di solito comunque sui pc qui in laboratorio PyCharm è presente nella cartella opt slash PyCharm slash bin per lanciarlo vi basta aprire un terminale e scrivere questa roba qui quindi slash opt slash PyCharm slash bin slash PyCharm punto sh quindi se volete provare aprite un terminale sui pc di laboratorio e digitate questa stringa qui in automatico cliccate invio e dovrebbe aprirmi PyCharm se è la prima volta che lo aprite vi chiede di acconsentire varie cose fate sì e poi vi si dovrebbe aprire PyCharm che io apro sul mio computer ora la versione che troverete lì è leggermente diversa dalla mia ma più o meno i concetti sono simili qui mi ha già aperto un progetto di prova che avevo ma io adesso faccio new project ok dovreste più o meno incontrare una visuale del genere non so se si veda tanto però poi cerco di ingrandire almeno il codice location ci chiede di definire una una posizione in cui salvare il nostro progetto anche in sede di esame occhio a dove salvate il vostro progetto perché poi dovete recuperare i file che scrivete col codice e caricarli poi sul sito del corso per consegnare l'esame quindi è importante sapere dove vengono salvati questi progetti nel mio caso vengono salvati nella cartella users alberto PyCharm projects ok potete anche ovviamente cambiare questa location chiamiamo questo progetto che ne so prova file ok poi potete scegliere se utilizzare l'interprete python quindi python installato sul vostro pc oppure creare un nuovo environment virtuale ora non stiamo lì a perdere troppo tempo creare un environment virtuale significa creare un environment quindi un ambiente dove posso andare a installare delle librerie ok solo in quell'ambiente virtuale senza installarli globalmente a livello di pc questo può essere utile in qualche caso ci avanza appunto di installare troppe cose a livello globale quindi di alleggerire un po' quello che installiamo sul nostro computer serve anche perché creando questo ambiente virtuale poi è facile spostarlo tra computer diversi perché lo stesso ambiente virtuale contiene tutto incluse le librerie ai fini di questo corso indifferente ok potete scegliere una delle due opzioni e clicco su create si lo voglio sovrascrivere questo perfetto vedete pycharm mi ha creato qui sulla sinistra una cartella chiamata prova file che è il nome del mio progetto nella location che abbiamo specificato e all'interno di questa cartella c'è per adesso un unico file chiamato python chiamato main.py questo file di main contiene già un po' di codice scritto lì dall'ambiente di sviluppo codice che non utilizzeremo quindi potete cancellarlo ovviamente potete anche cancellare il file main e crearlo uno nuovo chiamandolo un po' come volete non importa ad esempio se voglio creare un nuovo file python all'interno del mio progetto faccio tasto destro sulla cartella quindi su prova file new python file e lo posso chiamare esercizio esercizio file invio vedete ho creato un nuovo file esercizio file punto py posso anche cancellare il main se voglio quindi tasto destro sul main delete ok oppure potevo riutilizzare il main fa lo stesso a destra abbiamo la diciamo la parte dell'ambiente di sviluppo dove possiamo scrivere il nostro codice spero si veda ok ad esempio proviamo una bella print ciao esattamente come la scrivevamo in repl a questo punto possiamo cliccare sul pulsantone run qua verde e lui apre la console qua sotto purtroppo si vede un po' poco ma ha stampato ciao posso anche fare zoom di questo lo stesso pulsantone run c'è anche qua in basso nella console ok parliamo di file quindi ci interessa avere un programma python che faccia delle elaborazioni e poi ad esempio salvi qualcosa su un file di testo in modo tale che i nostri dati siano persistenti oppure altro caso d'uso un programma python che parte legge qualche dato da un file e poi usi questi dati per fare qualcosa e a sua volta modifichi questo file o faccia quello che debba fare allora quello che ci serve è ovviamente un file di testo dove poter leggere scrivere questo file di testo per semplicità direi che lo possiamo creare direttamente nella stessa cartella del progetto nella stessa cartella del nostro file python in questo modo potremo poi usare lo vedremo dei path name relativi senza dover andare a specificare tutto il path name del file c due punti slash utente bla 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 allora tasto destro sempre sulla mia cartella del progetto new a questo punto non è più un python file ma è un file normale quindi clicchiamo new file scriviamo ad esempio che ne so testo punto txt creiamo un file testuale vedete è nella stessa cartella ok magari in questo testo scriviamoci già qualcosa no che ne so pippo pluto un file di testo con queste due righe e lo salviamo file testuale normale adesso torniamo di là dal nostro file python e come facciamo ad esempio leggere questo file di testo la prima cosa da fare è aprire questo file di testo non so se l'avete visto in c comunque è simile il pattern aprire un file si fa con la funzione open funzione open a cui tra le parentesi toglie aiuto inserisco il nome del file più che il nome sarebbe il path name noi qui possiamo inserire solo il nome proprio perché abbiamo salvato il file nella stessa cartella del progetto se lo salviamo da un'altra parte dobbiamo andargli a dire poi la posizione del file nel nostro computer ma salvandolo lì nella stessa cartella possiamo dire open di testo punto txt ovviamente apriamo questo file ma dobbiamo salvarci un riferimento a questo file no? e quindi salviamo questo riferimento in una variabile che possiamo chiamare come vogliamo in questo caso l'ho chiamato txt ma è un nome quindi txt uguale open del mio file adesso tutte le operazioni che vorrò fare sul file dal mio programma le farò tramite la variabile txt la funzione open accetta un altro parametro che ci indica come vogliamo aprire il file il file lo possiamo aprire in lettura o in scrittura tendenzialmente la scrittura si differenzia ancora tramite due parametri la scrittura con la w aprendolo così cancelliamo tutto quello che c'è nel file e possiamo scrivere roba nuova aprendolo con la a lo apriamo sempre in scrittura ma non cancelliamo quello che c'è e quello che scriviamo va a finire in fondo se non specifichiamo niente lo apriamo in lettura ok o se vogliamo possiamo aggiungerci una r mi sembra se non vado errato comunque se non specifichiamo niente è in lettura ok proviamo in lettura txt open proviamo a stampare sulla console il contenuto del mio file print txt punto read la funzione read legge tutto quello che c'è nel file ok prima di lanciarlo sempre ricordarsi di chiudere il file quando abbiamo finito di fare le nostre elaborazioni txt punto close questo è molto importante perché altrimenti sprechiamo memoria vediamo se va lancio col bottone run direi di sì vedete nella console mi ha stampato pippo pluto quello esattamente che c'è nel mio file ok supponiamo di aprirlo in scrittura quindi con la doppia v ovviamente questa txt punto read adesso non funzionerà più vedete eccezione perché l'abbiamo aperto in scrittura e vogliamo invece leggere quindi se vogliamo leggere lo apriamo in lettura se vogliamo scrivere lo apriamo in scrittura se vogliamo scrivere e poi leggere dovrò aprirlo in scrittura chiuderlo riaprirlo in lettura ok la txt con la w dicevamo viene cancellato tutto quello che c'è e ci posso scrivere qualcosa di nuovo ad esempio txt punto write paperino se poi lo chiudo e lo riapro di nuovo in lettura txt uguale open di testo punto txt e stampo il contenuto diminiamo un po' lo zoom ok print txt punto read poi lo chiudo txt punto close che cosa faccio apro il programma in scrittura quindi lo cancello ci scrivo paperino lo chiudo e poi lo riapro e lo leggo vediamo se è proprio così perché c'è quell'otto ok ok non so cosa sia quell'otto lì però se se apriamo il file vedete che effettivamente c'è solo più paperino ok quindi abbiamo aperto cancellando tutto e abbiamo scritto una riga con paperino se adesso vogliamo mantenere quel file lì ma aggiungere delle cose allora lo apriamo non con la w ma con la a con la a vuol dire prendiamo quello che c'è nel file lo lasciamo lì dove è ma possiamo aggiungere in fondo quindi che ne so qui topolino vediamo un po' se funziona a questo punto paperino dovrebbe rimanere dovremmo aggiungere topolino e infatti l'ha fatto vedete però che non ha aggiunto ovviamente la capo perché non gliel'ho detto quindi se vogliamo lasciatemi cancellare di nuovo topolino salvo se vogliamo andare a capo glielo devo dire quindi prima di topolino aggiungo uno slash n slash n mi fa andare a capo e aggiungere topolino vediamo un po' e infatti è andato a capo addirittura due volte perché probabilmente c'era già la capo nel file stesso comunque non importa l'importante è vediamo un po' se se lasciamo il cursore lì al fondo dopo la o prima di andare a capo dovrebbe funzionare vediamo un po' no lo slash n per qualche motivo aggiunge uno spazio in più ma se non glielo metto ok no non ci va lo slash n cancellate quello che vi ho detto lo mette lui in automatico se lo apriamo con l'append è chiaro però comunque la differenza tra w e a e scrittura e lettura altra cosa topolino qui qua supponiamo di avere questo file qui quindi un file dove abbiamo diverse righe cancelliamo la scrittura la punto read come avete visto legge tutto il contenuto del file in una sola volta ok e ve lo sputa lì sull'output supponiamo di voler leggere però una riga per volta cosa che può essere utile nei nostri programmi magari vogliamo per ogni riga fare un'operazione in particolare e poi fare altre cose quindi non ci basta avere tutto il contenuto del file in una sola volta possiamo leggere riga per riga con la mi sembra read lines quindi ovviamente riga per riga ci servirà un for per ciclare queste righe quindi for ad esempio riga come prima la stessa struttura di prima in txt punto read lines due punti e posso ad esempio stampare print che ne so nuova riga due punti virgola riga vediamo un po' se funziona esatto nuova riga paperino topolino qui qua quindi con la read lines leggiamo una riga per volta domande sui file su pycharm in generale qua queste cose scusate devo ok queste cose le abbiamo dette questo possiamo saltarlo direi random è semplicemente un altro modulo tipo mat che ci permette di tirare a caso le cose ad esempio ci serve un numero casuale tra 0 e 100 possiamo usare il modulo random ma direi che non lo useremo molto nel contesto del corso quindi saltiamo vediamo un attimo le eccezioni in questa lunga carrellata di cose messe lì non dico a caso ma quasi eccezioni le abbiamo viste fino ad adesso ci sono già capitate nei nostri esercizi è una cosa che vogliamo ovviamente evitare perché bloccherebbero il programma quindi un modo per evitare le eccezioni è sicuramente controllare l'input no un esempio era quello di prima prima di prendere un valore da un dizionario controllo che la chiave ci sia nel dizionario però per quanto possiamo essere bravi a immaginare possibili problemi non riusciremo mai a immaginarli tutti i problemi purtroppo accadranno nei nostri programmi che sicuramente avranno dei bachi è impossibile creare programmi perfetti quindi le eccezioni ci sono c'è il modo però di catturarle e gestirle senza lasciare che queste eccezioni blocchino il programma del tutto come si fanno a catturare queste eccezioni tramite il blocco try try allora in alcuni programmi questo blocco si chiama blocco di try catch in python si chiama blocco di try except avete già visto questa cosa in altri linguaggi in java forse sì o avete iniziato a vederlo non lo so che cosa succede come possiamo usare questi blocchi di istruzione allora noi tutto quello che sappiamo essere a rischio di eccezione lo possiamo mettere in un blocco try except ad esempio qui abbiamo un'operazione di input ok e l'input può generare delle eccezioni soprattutto se associato a una funzione di conversione in questo caso di int che cosa succede se cerco di tradurre ad intero una stringa succede un'eccezione perché python non è in grado di tradurre una stringa in un intero ovviamente un carattere diciamo allora inseriamo questa istruzione qui all'interno di un blocco try sapendo che se mai si verificherà questa eccezione questa eccezione sarà catturata dal blocco except ok quindi nel blocco except ci finirò tutte le volte che capiterà una determinata eccezione vedete che posso specificare anche quale tipo di eccezione voglio catturare in questo caso il blocco è molto semplice c'è una so a priori che c'è una sola possibile eccezione che può capitare la value error convertire un carattere alfabetico in un numero e allora dico except value error se capiterà quell'eccezione avrò ancora l'opportunità di sistemarla scrivendo del codice nel blocco except in questo caso il codice è molto semplice stampo un messaggio d'errore e basta però il mio programma riesce a continuare lo stesso senza quello except il programma si sarebbe bloccato ovviamente posso catturare eccezioni specifiche tipo value error se sono sicuro di quello che può accadere se voglio ancora essere più previdente posso catturare except exception con la E maiuscola exception è una classe di python che cattura tutte le possibili eccezioni non solo le value error ma anche altri tipi di eccezione avete un esempio comunque sul sito del corso di questa roba qui questo direi che possiamo saltarlo questo pure e vediamo ultimissima cosa le funzioni le funzioni saranno una delle cose principali che inizieremo a vedere la volta prossima la programmazione funzionale come dice il nome mettiamo alcune nozioni base funzioni le avete già viste in C immagino sono un modo per organizzare il codice per avere dei pezzi di codice che poi possono essere riutilizzati in più punti del programma in python si definiscono così def parolina chiave nome della funzione say hello ad esempio e tra parentesi tonde i parametri in questo caso questa è una funzione che non ha parametri due punti e tutto spostato a destra di quattro spazi quello che fa quella funzione in questo caso è una cosa molto semplice un'unica print hello ovviamente la definizione della funzione non fa niente cioè se io la mia def della funzione say hello due punti print hello se lancio questo programma ovviamente questo programma non fa niente perché la funzione è solo definita non è mai stata invocata da qualcuno quindi dopo averla definita io posso invocarla dal mio chiamiamolo programma principale tramite il suo nome say hello a questo punto chiamo la funzione e questa funzione viene eseguita ok quindi definizione invocazione come detto la volta scorsa in python tutto è un oggetto quindi anche le stesse funzioni sono un oggetto e il nome della funzione è una variabile che punta un oggetto di tipo function ok dovreste già saperlo ma anche nel prototipo delle funzioni non dobbiamo specificare il tipo dei parametri cosa che va fatta in java in c perché di nuovo python è tipizzato dinamicamente e gli argomenti possono essere passati o in modo posizionale o tramite keyword e possono avere dei default value vediamo degli esempi che chiariscono meglio vediamo il primo il primo blocco abbiamo una funzione def fn che accetta tre parametri abc questa funzione semplicemente li stampa print abc va bene allora come possiamo invocarla a riga 4 vedete invochiamo fn con i valori 1 2 3 beh è abbastanza intuitivo capire che l'uno andrà a finire nel parametro a il 2 nel parametro b e il 3 nel parametro c giusto glieli sto passando in modo posizionale va bene posso anche usare il nome dei parametri vedete a riga 5 in sostanza ho invertito c e b c e b nella chiamata quindi l'uno non ha niente associato allora finirà in modo posizionale alla a poi però ho un c uguale a 8 ok qui non sto più accedendo non sto più definendo il parametro in modo posizionale ma tramite il suo nome e quindi qui sto definendo in realtà il terzo parametro c che varrà 8 e poi b 3 chiaramente i nomi devono essere coerenti c e b l'ultima riga 6 addirittura tutti gli elementi sono definiti tramite tutti i parametri sono definiti tramite il loro nome c uguale a 8 b uguale a 3 a uguale a 1 quindi possiamo scegliere come passare i parametri non solo i parametri possono avere dei valori di default vediamo il blocco a destra abbiamo una funzione fn dove c'è il parametro a ci sono i parametri b e c ma questi b e c sono associati a dei valori di default cosa vuol dire questo vuol dire che uno in python possiamo chiamare delle funzioni anche con meno parametri di quelli necessari non di più ma di meno si in questo caso se non gli specifichiamo tutti per b e c ci sono dei valori di default quindi se non specifichiamo b b varrà 7 se non specifichiamo c c varrà 7 ad esempio a riga 7 chiamiamo fn 1,2 quanto varranno i parametri abc a varrà 1 b varrà 2 perfetto c non c'è varrà 5 il suo valore di default ok va bene questo direi che possiamo saltarlo questo magari vale la pena accennarlo non credo lo useremo ma se lo vedete poi in giro su codice python capite perché abbiamo detto possiamo invocare una funzione con meno parametri di quella che lei accetta ovviamente non possiamo scriverne di più cioè se io ho una funzione say hello che accetta un nome no? un solo parametro e dice hello nome io ovviamente posso dire hello marta e lui stampa hello marta posso anche dire say hello di nessun parametro abbiamo visto possiamo scrivere meno parametri di quella che accetta in questo caso non c'è un default value no scherzavo ho detto una cavolata ecco se possiamo scriverne di meno solo se c'è il default value ovviamente qui non gli stiamo passando nessun parametro e lui non sa quanto vale nome non può saperlo quindi o c'è un default value ad esempio nome nome e in questo caso stamperò stamperà hello nome altrimenti dobbiamo specificargli il parametro ovviamente un'eccezione succede anche se io cerco di passargli più di un parametro ok sto cercando di passare due parametri a una funzione che ne accetta uno solo c'è un modo per avere delle funzioni che accettino un numero imprecisato di parametri ed è questo avere una serie di parametri standard chiamiamoli così virgola come ultimo parametro un asterisco e un nome tipo altri a questo punto altri che nelle slide chiamato other arcs ma è un nome che potete definire a piacere sarà una tupla di parametri aggiuntivi cioè guardate mi tornare qui io qua potrei richiamare questa funzione say hello con un numero imprecisato di parametri anche di tipo diverso ok 1 3 una stringa eccetera in questo caso nome conterrà sempre il primo parametro e poi abbiamo a disposizione la tupla altri che conterrà i parametri aggiuntivi che gli ho passato se io provo a stampare anche altri vedete ho stampato hello alberto quindi il primo parametro e poi ho una tupla di argomenti aggiuntivi questo è un modo per avere delle funzioni che accettano un numero imprecisato di parametri su cui poi posso fare quello che mi serve e direi che siamo quasi alla fine sì tramite la tupla possiamo anche avere funzioni che ritornano valori multipli cosa che non era possibile in C ma di nuovo non è così importante per questo corso questo pure non è importante e abbiamo finito perché l'ultime slide di questo set di slide sono già in realtà più relativi alla programmazione funzionale e quindi li vedremo la volta prossima e finalmente abbiamo messo le basi per poter affrontare gli argomenti importanti di questo corso non so se ci sono domande se non ci sono vi farei vedere il laboratorio di oggi non abbiamo più molto tempo però probabilmente dovrete finirlo a casa se siete interessati che è questo è un po' diverso rispetto al laboratorio precedente e anche un po' più lungo allora vi propongo di sviluppare un programma che sia una sorta di to do manager quindi un gestore delle vostre cose da fare un programma interattivo che vi permetta di aggiungere visualizzare togliere dei to do che sono delle cose una lista di cose da fare fare la spesa andare da parrucchiere eccetera eccetera questo è sono i primi tre esercizi quindi i primi tre esercizi in realtà sono degli esercizi che costruiscono passo passo questo to do manager l'esercizio 4 invece c'è un esercizio a sé stante sui dizionari sempre con i to do ma è a sé stante cerchiamo di vederlo un po' nel dettaglio il primo esercizio dice questo data una lista di task quindi di to do di cose da fare implementare appunto un to do manager che permetta di effettuare quattro operazioni inserire un nuovo task un nuovo to do che è banalmente una stringa una frase rimuovere un task digitando esattamente il suo il suo contenuto quindi se io ho aggiunto fare la spesa posso anche rimuovere fare la spesa digitando fare la spesa opzione 3 visualizzare l'insieme corrente di cose da fare e 4 opzione 4 uscire dal programma quello che vi chiedo è di fare un programmino che quando viene lanciato visualizza questo menu quindi premi 1 per inserire premi 2 per cancellare premi 3 per l'utente può digitare 1 2 3 4 invio eseguire l'operazione corrispondente a questo punto il programma non si chiude ma ristamperà un'altra volta il menu ok fino a quando fino a quando l'utente preme 4 ed esce quindi un programma un po' più interattivo di quelli che abbiamo visto fino ad adesso l'esercizio 2 vi chiede di estendere il programma aggiungendo i file quindi banalmente un file testuale che tenga traccia delle cose da fare in modo tale che quando l'utente esce dal programma e poi ci rientra non perda tutti i task che ha inserito prima quindi in sostanza quando nell'esercizio 2 quando apro il programma mi carico dal file di testo la lista lavoro su quella lista quando l'utente esce sovrascrivo il file testuale con la nuova lista modificata l'esercizio 3 è invece un'estensione della cancellazione di task cioè nell'esercizio 1 posso cancellare un to do un task digitando esattamente la frase il task stesso nell'esercizio 3 vogliamo fare qualcosa di più sottile cioè eliminare poter eliminare tutti i task che contengono una determinata parola cioè supponiamo di avere inserito un task fare la spesa e fare la spesa al supermercato due task diversi se scrivo spesa nell'esercizio 3 li cancello entrambi perché entrambi contengono la parola spesa non so se mi sono spiegato l'ultimo esercizio è sui dizionari niente vi chiede di a partire da una lista di scusate ok a partire da questi task qui che potete copiare e incollare nel nel vostro programma in questo caso la differenza è che prima i task erano delle stringhe qua invece diventano dei dizionari quindi ogni task ha associato non solo il task stesso tipo comprare un nuovo mouse ma anche un altro attributo urgent vero o falso che ci dice se questo task è urgente oppure no e il programma il testo vi chiede di scrivere un programma che data questa lista di task eccola qua in cui ogni task è un dizionario ritornare una nuova lista che contenga solo i task che sono urgenti che quindi hanno associati il campo urgent a true ok vi direi comunque di concentrarvi prima sul to do manager ovviamente fatelo su pycharm perché soprattutto per il fatto di avere il file testuale se volete vi faccio anche vedere l'output che deve avere questo programma se lo trovo vediamo un po' ovviamente non guardate la soluzione ma no non è questo è questo to do manager lo apro un attimo così non guardate la soluzione vedete che è comunque un esercizio abbastanza lungo nel suo complesso non vi faccio vedere il codice ma se io lo lancio ok vedete che questo programma mi stampa un menu a schermo quindi posso scrivere uno per inserire un nuovo task due per rimuovere un task digitando esattamente il suo contenuto tre per rimuovere i task che contengono una determinata parola quattro per vedere la lista di task cinque per chiudere il programma supponiamo voglio inserire un nuovo task ok digito uno e premo invio il programma mi chiede inserisci il nuovo task ottimo allora inserisco fare la spesa tac invio ok l'ho inserito il programma mi ristampa il menu posso di nuovo scegliere cosa fare allora ne inserisco un altro uno invio fare i compiti ok di nuovo il menu vediamo un po' la lista di task ok digito 4 vedete mi ha stampato fare la spesa fare i compiti e poi mi ha ristampato il menu e posso decidere cosa fare ad esempio posso volere eliminare tutti i task che contengono la parola fare allora clicco su 3 remove all the task that contain un provided string e scrivo fare infatti mi dice il primo elemento è stato rimosso il secondo pure infatti se adesso visualizzo con 4 i miei task i miei task sono vuoti posso andare avanti interagire col programma fino a che non clicco non digito 5 digito 5 e il programma finisce è chiaro come esercizio quindi sicuramente per fare questo menu ci andrà un ciclo while finché l'utente non digita 5 eccetera eccetera cercate anche se è possibile e poi mi taccio di dividere il codice in funzioni vedete che ogni numero è associato a una determinata funzione del programma quindi non scrivete un programma in cui è tutto in un unico blocco ma se riuscite dividete in funzioni ci sarà la funzione per stampare la funzione per aggiungere la funzione per eliminare e a seconda della scelta dell'utente invocherete la funzione corretta è chiaro che si può fare tutto in un unico blocco però logicamente è meglio lavorare con le funzioni visto che le abbiamo viste mi taccio e abbiamo un'oretta e poi ovviamente caricherò poi la soluzione sul sito arrivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti